Viaggio tra le cucine del mondo è una genuina novità. Lo chef Davide Falcioni ci accompagna attraverso un personalissimo giro del mondo in luoghi per lui significativi, dove ogni piatto collezionato regala soprattutto emozioni e nitidi ricordi delle persone incontrate sul percorso. Frutto di grande curiosità e lunga ricerca, sono tutte ricette che non prevedono ingredienti di origine animale, adatte perciò a un'alimentazione vegetale, e molte sono indicate anche per una dieta priva di glutine. In occasione della maratona Treviglio Libri, l'autore ci condurrà nel suo itinerario di profumi e sapori in diretta Facebook sabato 26 settembre alle 11. Se è vero che siamo ciò che mangiamo, io voglio mangiare solo cose buone.